Giorgio Manetti Uomini e donne, Gemma lascia lo studio dopo l'annuncio di Giorgio Manetti Alta tensione nel corso della registrazione del trono over del 6 febbraio. La lunga telenovela tra Cancelletto Gemma Galgani e Giorgio Manetti, video, potrebbe essere giunta all'epilogo. In queste ultime settimane la dama ha tentato di riavvicinarsi al gabbiano. Dalla cena insieme, al bacio rubato, ai numerosi lenti con dedica speciale. Sono convinta che lui sia ancora interessato a me. Sensazioni che hanno spinto la torinese ad andare avanti nonostante le pesanti critiche di Tina Cipollari. Da parte sua il fiorentino ha sempre precisato di non provare più niente per Gemma ed ha continuato ad incontrare altre dame. Giorgio ha provato anche a recuperare il rapporto d'amicizia con Anna Tedesco dopo le incompressioni delle precedenti puntate. Un regalo di Manetti alla dama di origini perugine ha provocato la rabbia di Gemma. All'inizio della registrazione del trono over del 6 febbraio Maria De Filippi ha mandato in onda lo sfogo della Galgani al termine della precedente puntata puntando l'indice contro Anna e Tina. Il clima è diventato incandescente con l'ingresso della piemontese in studio. Nella discussione è intervenuto Angelo che ha rivelato un aneddoto svelato dalla Tedesco. Mi disse che Tina aveva acquistato una cosa a Firenze e sospettava che avesse una storia con Giorgio. . Tina smentisce la relazione con Giorgio. A questo punto la Cipollari ha invitato il fiorentino a dire che tra di loro non c'è stato nulla. Angelo ha ribadito di essere certo che Anna sia attratta da Giorgio e la sua tesi è avallata da Gianni Sperti. Il discorso si sposta nuovamente su Gemma con la conduttrice che fa ascoltare il file audio di un'intervista rilasciata da Manetti al giornalista Oliviero Marchesi di Di Più. Ho amato Gemma a modo mio. Parole che non sono sufficienti a scalfire le convinzioni della torinese. Maria De Filippi, video, ha precisato che Gemma ha raccontato alla redazione di avvertire delle sensazioni speciali quando balla con Giorgio. Quest'ultimo ha smentito di aver mai affermato di provare emozioni particolari ed ha spiegato la differenza tra lo star bene con una persona ed amare. Non starò mai più con Gemma. Per la Galgani le cose stanno in altro modo e continua a rimarcare che il cavaliere si fa condizionare in studio. La torinese non riesce a trattenere le lacrime mentre Gianni Sperti esorta Manetti a fare chiarezza sul suo rapporto con la piemontese. Infuriato per gli attacchi ricevuti e per le affermazioni di Gemma il gabbiano ha deciso di tornare a sedersi nel parterre affermando perentoriamente che non starà mai più insieme con la Galgani. Su invito della conduttrice la dama è uscita dallo studio dove è stata raggiunta da Marco Firpo.